Dell'Orefice, allora più opportunità o più penalizzazioni con l'Geobact? Noi per il momento ci limitiamo a registrare quelle che potrebbero essere delle potenziali insidie di questo strumento normativo così come le indubbie opportunità che la norma introduce. Per quanto riguarda le seconde, cioè le opportunità, a noi piace sottolineare che il Governo ha posto un segnale molto serio in ordine all'uniformità dei trattamenti da riconoscere a tutti i lavoratori dipendenti di questo Paese superando antiche segmentazioni e delle iniquità che il sistema portava. Per quanto riguarda invece gli aspetti più controversi, la Fisaskat CISL ad ogni livello assieme alla CISL è attivamente impegnata per richiedere ed ottenere delle migliorie al testo in quanto riteniamo che l'introduzione indiscriminata dell'indennizzo in luogo del reintegro in caso di licenziamento illegittimo cozi con i principi generali stessi del nostro ordinamento e di fatto crei dei lavoratori di serie A e dei lavoratori di serie B. Segretario, restringendo il discorso in chiave abruzzese cosa si può dire? Questo strumento può sicuramente consentire un maggior coinvolgimento di giovani e donne che sono i soggetti più deboli ed esposti sul mercato del lavoro, quello che dobbiamo fare anche in Abruzzo e che a questa facilità di ingresso nel mercato del lavoro non si accompagni una estrema facilità d'uscita dal mercato del lavoro.